E' stato un giovedì sotto le stelle, lungo e ricco di avvenimenti, con i negozi aperti e tante occasioni di incontro e di divertimento. Alle 20.45, nella corte di Palazzo Gergaoris, in corso Vittorio Emanuele, il ciclo Parole e Musica, a cura della SOMSI, ha preso il via con il concerto dei Camerieri Italiani, che servivano la storia della canzone italiana con un menu rigorosamente acustico. Alle 21.00, in Piazzetta Cavour, il centro è diventato uno spettacolo, con la regia di Centro Anch'io. Si è esibita l'Accademia Vocem del Cem e, contestualmente, è stata allestita un'area casting per selezionare i giovani talenti, cui verrà affidato il compito di presentare le serate successive e che verranno ingazzati per il Fashion Day autunnale. Piazza 20 Settembre ha ospitato le iniziative a cura di Proloco Pordenone e noi di Via Cavallotti, con le gare di briscola, l'esibizione del gruppo Respiro Danza, oltre ad una fresca anguriata per tutti. L'estate in città 2013 offre quasi ogni giorno, per due mesi, numerosi appuntamenti, spaziando dal teatro alla musica, dal cinema allo sport, dall'arte ai laboratori per bambini, dal cinema all'aperto alle visite guidate, venendo incontro di interessi e gusti di un pubblico molto ampio e di tutte le età. Per ulteriori informazioni visitare il sito comune.pordenone.it slash estate